Oggi abbiamo discusso di giornalismo, di futuro del giornalismo e di internet. Lei ha avuto un'esperienza a tutto campo, ha lavorato per la carta stampata, la televisione, ora è direttore dell'Huffington Post. Cosa salva dai mezzi tradizionali per il giornalismo del futuro? Salvo il mestiere, cioè la capacità di imparare e sapere come si trovano le notizie, come si verificano e come si presentano. Cioè la capacità del mestiere, l'anima del mestiere. Lo abbiamo detto nel corso della conferenza, i numeri parlano chiaro, ormai il web ha soppiantato la carta. Lei crede che ci sia però in questo senso ancora un po' di resistenza all'interno delle redazioni? Io credo che la carta stampata abbia raggiunto, che è diciamo seminale nel giornalismo, quindi dobbiamo sempre guardare l'esperienza della carta stampata come al padre e alla madre di tutti noi. Però penso che è arrivato a questa esperienza, quella del passaggio appunto su web, nel momento peggiore, cioè quando c'è anche una grande crisi economica, perché se non fosse anche per questa crisi economica sarebbe più sereno questo passaggio. Invece oggi c'è paura perché il web viene identificato con un po' la fine del vecchio mondo, invece non è così naturalmente. Sotto titolo di questa giornata è le radici del futuro, lei che consigli darebbe ad un giovane, che cosa cercherebbe in un giovane che potrebbe essere assunto? Intanto la specializzazione, cioè sapere qualche cosa molto bene, ci sono oggi tra l'altro delle materie molto rilevanti, che immediatamente ti mettono molto in alto come curriculum, ma nell'attenzione della scelta di un direttore. Intanto l'economia, che è una questione fondamentale, una fortissima visione del mondo, cioè anche di natura geopolitica o anche di natura di esperienza personale, perché è il mondo globale quello su cui siamo oggi chiamati a parlare. E un'ultima domanda, una curiosità, abbiamo parlato di Twitter, lei ha detto quando guardo, penso ai miei collaboratori, vedo quando hanno twittato per l'ultima volta, lei però Twitter non lo usa? Non ce l'ho, ma è diventato un po' uno sfizio, un mezzo, perché in realtà io riesco a vedere il tweet di tutti quanti attraverso naturalmente una delle meraviglie della tecnica perché si può fare. Grazie. Grazie. Grazie.